Odori molesti in atmosfera, niente paura. C'è un naso, o meglio un nose, dal nome del progetto sperimentale, che va a monitorare proprio i miasmi olfattivi. La sperimentazione, iniziata in Abruzzo nel 2023, è interamente finanziata dalla Regione ed in particolare dal Dipartimento Sanità. I risultati della sperimentazione sono stati illustrati questa mattina in un convegno al distretto Arta di Chieti. Sentiamo in sequenza il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Diorizio, e il direttore tecnico-scientifico, Massimo Giusti. I normali strumenti erano non all'avanguardia e quindi Arta Abruzzo ha ritenuto di munirsi di un importante strumento tecnico-scientifico per meglio rispondere alle esigenze della popolazione abruzzese. Quali sono in generale i dati che avete trovato fino a questo momento? Che il nostro è un territorio sano, che ha delle criticità sporadiche, localizzate e direi circoscritte nel tempo. Le grandi molestie olfattive, che derivano dai grandi insediamenti industriali, che permangono nell'aria e che creano i veri disagi, come spesso accade nelle altre regioni italiane, da noi hanno una dimensione più limitata. E questo strumento, il NOSE, ha permesso di evidenziare la portata, tutto sommato, non gravissima, del fenomeno. Quali sono le molestie olfattive più ricorrenti, quelle che vi segnalano di più? Beh, gli odori, diciamo, innanzitutto definire un odore è anche abbastanza complicato. Diciamo, fare la caratterizzazione chimica di un odore è molto complicato. Esistono delle tecnologie e c'è anche una prova chimica, chiamiamola chimica, è una prova affattometica, che ci consente di capire il livello degli odori. Le segnalazioni, diciamo, in principal modo hanno interessato, diciamo, prodotti di compostaggio, hanno interessato, in particolar modo, anche, diciamo, allevamenti vari. E quindi ecco la problematica è abbastanza diversificata.